È vero, noi siamo affaticati dalla spressa del cammino, ma la speranza ci dà la forza di andare avanti. Guardando alla loro vita dei santi, siamo stimolati a imitarli. Tra loro ci sono tanti testimoni di una santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio. Fratelli e sorelle, il ricordo dei santi ci conduce ad alzare gli occhi verso il cielo, non per dimenticare le realtà della terra, ma per affrontarle con più coraggio, con più speranza.